Guardate che letto davvero spettacolare, rock'n'roll! Però sicuramente si dormirà benissimo, voglio provarlo Che ci fate qui? Eh, hai ragione, scusami tanto Ciao a tutti, lui è lui, è lei Sofì e insieme siamo in me contro te Bentornati al Palazzo Reale, oggi un video super 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 speciale Perché stiamo per vedere per la prima volta la stanza di Emma Siamo qui perché è appena uscita la nuova stagione della famiglia reale La nostra serie tv che si trova su Prime Video Se non avete ancora visto le nuove puntate, cosa stanno aspettando? Correte! Insieme a noi ci sono tutti i nipoti della regina che già conoscete C'è anche la regina, la signorina Cornelia E dei nuovi personaggi super super divertenti Già, perché Divina è diventata un influencer! Capite? È diventata famosissima! E ha pure una sua assistente, Irene, che è super simpatica Per non parlare poi di Milo, il nuovo aiutante Cuoco Che combina un sacco di guai Ragazzi, credeteci se vi diciamo che in questa nuova stagione succede di tutto È davvero la stanza più stravagante di tutto il palazzo È davvero diversa da tutte le altre Guardate, nonostante nelle pareti ci sia la solita carta da parati In realtà è super personalizzata da Emma Più che personalizzata, direi quasi distrutta da Emma Ma non è vero, è bellissima, lui, guarda Ha un sacco di poster e fotografie attaccate alle pareti Guarda qui, lui, guarda! Ci sono le foto con noi! Questo qui è Bruno! Emma, devo dire che era molto appassionata a Bruno Però per fortuna Dario, suo fratello, è altrettanto simpatico Qui c'è la sua postazione da gaming Raga, guardate che figata Perché lei oltre a far musica gioca anche ai videogiochi E qui ha una super postazione Aspetta, qui c'è un suo quaderno Diamo un'occhiata Ma ci sono i compiti? Pare proprio di sì, guardate! È tutto in ordine! Ma tutti i compiti per come si deve? Brava Emma, non me lo aspettavo Ciao! È bravissima! No, ma stai facendo un casino da me! Mettiamo tutto a posto, ok? Ok, rimetti tutto in ordine Anche perché Emma non sa che noi siamo qui, ecco Cioè, come al solito, noi ci siamo presi questa libertà di entrare Per farvi vedere la stanza Però siamo sicuri che lei non dà fastidio La conoscete, Emma? Ci siamo dimenticati di omettere questo piccolo dettaglio Che forse dovevamo avvertire Emma Che eravamo nella sua stanza a fare questo video Però non l'abbiamo trovata E quindi, vabbè, ci divertiamo Guarda lui, guarda, guarda qui, guarda che carino Lei dice sempre Bella, bella ragazzi, bella ragazzi Ma bella come al simbolo di che cosa? Ah lui, non capisci niente Facciamo vedere che qui ci sono un sacco di strumenti musicali Guardate, ci sono tutte le chitarre appese E ci sono anche i bassi Guardate che figata Sono bellissime, le vorrei io La più grande passione di Emma è la musica Impatti, suona proprio la batteria E qui c'è la sua batteria Che come vedete è gigante Che c'è? Che c'è? Secondo te la posso provare? Ma non puoi suonare la batteria al palazzo reale La regina si arrabbiera tantissimo Ok, la provo No, no, ma ho appena detto il contrario Ma non ti volevo convincere Ho detto il contrario Piano, piano, piano Da casa nostra fino al palazzo Nella regina Con i suoi nipoti strani Ronaldo è mai divina Signorina Cornelia Scusi non volevo Per fortuna c'è Bruno Che sollievo Sai che cosa c'è? Qui c'è tanto da fare La famiglia reale Sono bravissima come batterista Beh, direi che sei letteralmente negata Evita Ai, ai, ai Posa le banchette Posa le banchette Sono pericolose Va bene, le poso, le poso Le metto qua Ma erano qua Non lo so Spero di non aver combinato qualche guaio Qui poi c'è anche una super tastiera Che però non so suonare Direi di lasciare qui Per quelli che invece Stanno suonare molto meglio di me Qui mi sa che c'è il suo guardaroba E beh, direi che Emma non ha proprio capito che No Prima di mettere i vestiti nel cassetto Bisogna piegarli Già, qualcuno glielo dovrebbe spiegare Come si piegano i vestiti Perché così è un casino Secondo me Dario e la signorina Cornelia Ormai ci hanno perso le speranze con lei Infatti non vengono neanche a sistemare la stanza Perché secondo me Lei non glielo permetterà Preferisce vivere nel suo disordine Perché una volta ha detto Che lei trova l'ordine nel suo disordine Probabilmente una tra le parti più divertenti Della stanza Ovvero I suoi vestiti Che sono tutti uguali Perché lei indossa sempre magliettine nere E guardate C'è tutte qui appena Aspetta, non solo nere Quelle viola Che non sono qui Magari saranno a lavare Sono le magliettine Col teschio Guardate questa che bella Col teschio e glitter Wow Già Poi c'è questa Poi c'è questa degli abcd E poi c'è quella dei miss Sono tutte band super rock E infine rimane l'angolo col letto Rock and roll Guardate che letto davvero spettacolare È dentro È dentro le pareti È davvero molto strano Però sicuramente si dormirà benissimo Voglio provarlo Ma che succede? Che ci fate qui? Hai ragione Scusami tanto Ma potrei farti la stessa domanda Che ci fai tu qui? Scusa Questa è camera mia Hai ragione Però noi abbiamo fatto un sacco di casino Poco a poi stavamo suonando la battaglia Ma come fatta a non sentirci prima? Dormivo profondamente Ma quindi abbiamo scoperto che Emma ha il sonno pesante Dormi come un ghiro? Sì Ma sei contenta che siamo tornati al palazzo leale? È bellissimo ragazzi Vi aspettavo Sì sono sicura che quando non ci siamo un po' Vi annoiate vero? Sì è bellissimo Soprattutto poi contro Ronaldo Eh guarda non oso immaginare Sono sicura che questa è la tua parte preferita nella stanza È vero? In realtà no Vi faccio vedere qual è la mia parte preferita Dove stai andando? Noo Mamma mia Mamma mia Vabbè immaginavo Qui scusami Dove c'hai il letto C'è un casino qui dentro nelle pareti Ma cosa sono tutte queste cose? Ah queste sono tutte le mie piccole esperienze Tipo questa è quando sono stata a Parigi Qui ho staccato dei poster da Non mi ricordo dove E questo è il mio prototipo di ragazzo Questa è la mappa della metro in Inghilterra Poi c'è questo che è stato il concerto più bello in assoluto Il 5 giugno degli abissimi Beh ragazzi direi che semplicemente questa è la stanza più figa di tutto il palazzo reale Veramente bellissimissimo Ma che cosa fa? Come vestendo È stato bellissimo lui Ma comunque ragazzi speriamo questo video vi sia piaciuto Noi vi aspettiamo su Prime Video con la nuova stagione della famiglia reale E domani con un nuovissimo video qui su YouTube Ciao Bella ragazzi Ciao